La principessa Beatrice potrebbe essere chiamata a testimoniare per suo padre, il principe Andrea, se il caso giudiziario andrà avanti, ha affermato un biografo reale. L'ex moglie del principe Andrew, Sarah Ferguson, e la figlia maggiore, la principessa Beatrice, potrebbero essere tra i testimoni che devono testimoniare nella causa civile con l'accusatrice Virginia Giuffre, ha affermato la biografa reale Angela Levin. L'avvocato della signora Giuffre, David Boyce, ha già indicato che la duchessa di York e le sue due figlie potrebbero essere citate in giudizio, ma ha aggiunto che ottenere la giurisdizione su di loro come cittadini del Regno Unito presenta ulteriori sfide. Parlando con la conduttrice di talcradio Julia Hartley Brewer, la signora Levin ha dichiarato, se il caso va avanti, uno, non sarà ascoltato fino all'autunno e, in secondo luogo, coinvolgerà Beatrice che verrà portata in tribunale e tutti i tipi di altri membri della famiglia. Ha detto che stava mangiando una pizza e che non sarebbe potuto andare con Virginia in un nightclub, e devi dimostrarlo e poi devi portare la sua famiglia lì per sostenerlo. Penso che per un anziano reale fare affidamento su un paio di parole tecniche in un caso giudiziario sia assolutamente spaventoso. La signora Hartley Brewer ha aggiunto, in effetti. Anche uno degli argomenti che ha adotto in tribunale è stato che era incostituzionale far sì che la modifica della legge fosse apportata nei casi Harvey o Einstein-MeToo, che concedeva più tempo alle potenziali presunte vittime di abusi sessuali. Abuso di farsi avanti.Ciò significherebbe che fermerebbe altre vittime, uomini e donne, ragazzi, ragazze che si fanno avanti anni dopo, in ogni altro caso. Voglio dire, non è solo un bell'aspetto. Ora dobbiamo sottolineare che il principe Andrea ha sempre negato qualsiasi illecito. L'avvocato di Giuffre ha affermato, probabilmente prenderemmo una o due deposizioni di persone vicine ad Andrew che sarebbero state a conoscenza delle sue azioni. Ciò potrebbe includere la sua ex moglie. Potrebbe essere suo fratello. Quando gli è stato chiesto se la madre di Andrew, la regina, sarebbe stata portata alla sbarra, il signor Boys ha detto di no.